devo dire che siamo, come si chiama, posizionato. Allora, siamo in diretta, penso, no? In diretta, yes. Qualcuno vede o non vede che sì? In diretta? Sì. Non lo so se qualcuno vede in diretta. Non lo so, non lo so, non lo so. Proprio, sì, allora vede. Allora, siamo in diretta. Assalamualaikum. Buonasera. A me, 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 dotI, siamo, a me, a me, a me. Allora, siamo bleiben, i people, c' training. O come, a me, un gattopno, questi ci siamo Crimea un Dangin, che? Adversi il estò, ci sono sottile, per quicolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Via Prenestina e Angolo di Rocca di Arce, un terreno disuso da anni. Noi abbiamo chiesto al municipio per utilizzare quel posto per tutta cittadinanza di Romana, particolarmente per quartiere, perché veramente dentro città proprio a largo Preneste, così dovrebbe essere minimo 4-5 ettari di terreni, disugio, mondessa. Poi c'è altre tante cose che sera entrano persone, poi anche c'è i drogati, tutte queste cose. Allora noi stiamo cercando di riqualificare questa zona sempre con le nostre spese. Anzi, se l'ufficio pubblico o fondo pubblico partecipa, meglio è. Da domani iniziamo proprio a lavorare di questo terreno. Siete tutti invitati, siete tutti invitati. Anche, voi sapete bene, dice giugno, 10 maggio hanno sfrattato nostra sede di via Capua 4, dove erano diverse sala. Per riunioni siamo in difficoltà, per assemblea siamo in difficoltà, per bambini dopo scuola anche siamo in difficoltà. Proprio quando la prossima settimana chiudono le scuole, giugno, luglio, agosto, rimane tutti chiusi. E' proprio quel momento un sfrattato veramente pesante. Perciò noi stiamo cercando sempre, abbiamo chiesto l'autorizzazione per mettere una tenda, per adulti in lingua italiana, per bambini dopo la scuola, poi anche aggregazione, intergrazione, tutti i tipi di questa situazione che noi abbiamo pensato e può realizzare se il municipio comune, non lo so chi è, se dà un'autorizzazione per fare di questo tipo di cose. Sempre diciamo con il nostro espese, noi non abbiamo chiesto nessuno fondo del pubblico. Comunque, grazie di tutti, ci vediamo inshallah prossimamente. Assalamualaikum warahmatullahi.